In viaggio, Maupassant, da Cannes lo scompartimento era completo. Tutti si conoscevano e chiacchieravano. Nei pressi di Tarascon, un tizio disse, qui ammazzano. Così cominciarono a parlare del misterioso e inafferrabile assassino, che da due anni in qua ogni tanto si offriva alla vita di un viaggiatore. Ognuno faceva ipotesi, ognuno avanzava al proprio parere. Le donne guardavano rabbrividendo la buia notte dietro i vetri delle finestre, col timore di vedere apparire all'improvviso una testa d'uomo nel vano. Si missero a raccontare vicende di incontri spaventevoli, di colloqui con dei pazzi incontrati sul treno, di ore passate di fronte a persone allarmanti. Ogni uomo raccontava un episodio di cui era stato l'eroe. Ognuno di loro aveva spaventato e ridotto all'impotenza un vero malfattore, in circostanze straordinarie, con presenza di spirito e coraggio notevoli. Un medico, che passava ogni inverno nel mezzogiorno, volle raccontare anche lui la sua storia. Non mi è mai riuscito di capire se sono coraggioso o no in cose di questo genere, ma ho conosciuto una signora, una mia cliente oggi defunta, a cui capitò l'avventura più straordinaria che si possa immaginare, e anche la più enigmatica e commovente. Era russa la contessa Marie Baranoff, una gran dama di delicata bellezza. Sapete quanto sono belle le russe, o almeno quanto ci sembrino belle, col loro naso affilato, la bocca sottile, gli occhi di inconfondibile colore blu-grigio, e la loro grazia fredda e un po' altera. Hanno qualche cosa di crudele e di attraente, di superbo e di amabile, di tenero e severo, che per i francesi è incantevole. In fin dei conti è solo la diversità di tipo e di razza a farci vedere in loro tante cose. Il suo medico pensava da molti anni che fosse minacciata da una malattia di petto, e cercava perciò di persuaderla a stabilirsi nel mezzogiorno della Francia, ma lei rifiutava ostinatamente di lasciare Pietroburgo. Finalmente, l'autunno scorso, il medico, pensando che fosse in fin di vita, avvertì il marito, il quale ordinò subito alla moglie di partire per mentone. Prese il treno. Era sola perché le persone di servizio stavano in un altro scompartimento. Dal finestrino vedeva passare campagne e paesi. Un po' triste, sentendosi molto sola e abbandonata nella vita, senza figli, quasi senza parenti, con un marito che non l'amava più e la scaricava in quel modo all'altro capo del mondo, senza accompagnarla. Così, come si manda all'ospedale un servo malato. Ad ogni fermata, il suo servo Ivan veniva a prendere notizie, per sapere se la padrona aveva bisogno di qualche cosa. Era un vecchio ciecamente affezionato, pronto ad eseguire qualunque ordine lei gli avesse dato. Discese la sera, mentre il treno correva a tutta velocità. Lei non riusciva a dormire dal nervosismo. Ebbe l'idea di mettersi a contare il denaro che suo marito le aveva dato all'ultimo momento, prima di partire, in monete d'oro francesi. Aprì la borsetta e si rovesciò in grembo tutto quel metallo lucente. D'un tratto, una ventata fredda, le investì il volto. Alzò la testa, sorpresa. Lo sportello era stato aperto. Spaventata, la contessa buttò una scialle sopra il denaro sparpagliato sul suo vestito e aspettò. Trascorsero alcuni attimi e poi comparve un uomo a testa coperta, ferito a una mano ansimante, in abito da sera. Chiuse lo sportello, si sedette, osservò la sua vicina con occhi febbrili, poi si avvolse la mano con un fazzoletto. Ne colava sangue. La giovane signora si sentiva quasi venir meno dallo sgomento. Di certo, quel uomo l'aveva veduta contare il denaro ed era entrato per derubarla ed ucciderla. Seguitava a fissarla, sempre in affanno col viso contratto. Senza dubbio era pronto a saltarle addosso. D'un tratto disse, «Signora, non abbiate paura». Lei non gli rispose, incapace di parlare. Sentiva il cuore batterle forte nel petto e le orecchie ronzarle. L'uomo continuò, «Non sono un bandito, signora». Lei continuava a tacere, quando un brusco movimento, fatto nel tentativo di avvicinare le ginocchia, fece cadere le monete, tintinnanti come acqua che cola dalla grondaia. L'uomo osservava con sorpresa quel ruscello di oro. Si chienò di scatto per raccoglierlo. Allora, ancor più spaventata, lei si alzò, facendo cadere in terra il suo tesoro e corse allo sportello per gettarsi fuori del treno. Ma egli comprese quel che aveva in mente e la prese di slancio tra le braccia. La fece sedere a forza e tenendola saldamente per i polsi le disse, «Ascoltatemi, signora, non sono un delinquente e ve lo dimostro raccogliendo il vostro denaro e riconsegnandovelo. Ma se voi non mi aiutate, sono un uomo rovinato, un uomo morto. Devo passare la frontiera e non posso dirvi di più. Fra un'ora saremo all'ultima fermata in terra russa e fra un'ora e mezzo varcheremo i confini dell'impero. Se non mi aiutate, io sono finito. Eppure, signora, non ho ucciso né rubato né commesso una qualunque colpa disonorevole. Ve lo giuro. Di più non posso dire». Si inginocchiò, raccolse l'oro fin sotto i sedili cercando le monete rotolate lontano. Quando il sacchetto di cuoio fu pieno di nuovo lo consegnò alla sua compagna di viaggio senza dire una parola. Poi si sedette nell'angolo opposto dello scompartimento. Nessuno dei due si mosse. Lei, silenziosa, tremava ancora di spavento ma si stava riprendendo a poco a poco. Quanto a lui non faceva un gesto né un movimento. guardava davanti a sé irrigidito e pallidissimo come morto. Ogni tanto lei gli gettava un'occhiata fuggevole subito distolta. Era un uomo sulla trentina molto bello di aspetto nobile. Il treno correva nella notte lanciando strazianti richiami nelle tenebre rallentando ogni tanto ma riprendendo subito velocità. poi fischiò varie volte rallentò ancora e si fermò. Ivan si presentò allo sportello per prendere ordini. La contessa Marie guardò ancora il suo compagno e disse al servo con tono brusco ma voce tremula Ivan torna a casa dal conte io non ho più bisogno di te. Stupefatto l'uomo spalancò gli occhi e balbettò ma Barina lei disse non devi proseguire ho cambiato idea devi rimanere in Russia ecco il denaro per il ritorno a casa e dammi il tuo berretto e il mantello. Spaurito il vecchio servo si tolse il berretto e porse il mantello ubbidendo senza replicare dato che era abituato alle volontà repentine e ai capricci dei suoi padroni. Si allontanò con le lacrime agli occhi il treno ripartì diretto alla frontiera la contessa Marie disse al suo vicino questi abiti sono per voi signore adesso siete Ivan un mio servo pongo una sola condizione non dovete mai rivolgermi la parola né per ringraziarmi né per altri motivi lo sconosciuto si inchinò e non disse nulla il treno si fermò poco dopo e arrivarono i funzionari in divisa la contessa porse loro i suoi documenti e indicò l'uomo seduto in un angolo dello scompartimento quello è Ivan un mio servo ecco i suoi documenti il treno ripartì restarono così senza aprire bocca per tutta la notte la mattina a una fermata in una stazione tedesca lo sconosciuto discese e in piedi vicino allo sportello disse vi chiedo perdono signora se trasgredisco a quanto promesso ma vi ho tolto un domestico ed è giusto che lo sostituisca avete bisogno di qualche cosa? con freddezza la contessa rispose chiamatemi la mia cameriera lui ci andò e poi non si fece più vedere ma quando scendeva dal treno per andare al buffet lei lo scorsa in tempo a guardarla da lontano arrivarono a mentone il dottore fece una pausa e poi il suo racconto riprese un giorno mentre stavo ricevendo i pazienti nel mio studio vidi entrare un giovanotto alto che mi disse dottore vengo a chiederle notizie della contessa marì baronoff lei non mi conosce ma io sono amico del conte risposi la malattia la condanna non tornerai russia l'uomo scoppiò a piangere si alzò e uscì barcollando come un ubriaco quella stessa sera avvertì la contessa che uno straniero era venuto a informarsi della sua salute mi parve emozionata e mi raccontò la storia che sapete aggiunse quell'uomo che non conosco mi segue come un'ombra ogni volta che esco l'incontro mi guarda in modo strano ma non mi ha mai rivolto la parola riflette un attimo e aggiunse ecco scommetto che adesso è sotto le finestre si alzò dalla poltrona a sdraio scostò le tende e mi mostrò l'uomo che era venuto da me seduto su una panchina della passeggiata con lo sguardo fisso verso l'albergo si scorse si alzò e andò via senza volgersi indietro neppure una volta fu allora che cominciai ad essere testimone di una storia straordinaria e dolorosa l'amore segreto di due persone che non si conoscevano lui l'amava con la dedizione di un animale salvato da morte riconoscente e fedele per la vita ogni giorno sapendo che io avevo capito veniva a domandarmi come sta piangeva a calde lacrime ogni giorno quando la vedeva passare sempre più pallida e sempre più debole lei mi diceva ho parlato una sola volta con quell'uomo non comune e mi pare di conoscerlo da vent'anni quando si incrociavano lei rispondeva al saluto con un delizioso sorriso serio capivo che era felice lei così sola conscia della prossima fine era felice d'essere amata in quel modo con tanto rispetto e tanta costanza con quell'idealismo sublime con quella devozione pronta a tutto eppure coerente con la sua ostinazione appassionata rifiutava con decisione di riceverlo di sapere il suo nome di parlargli diceva no sarebbe sciupare questa amicizia fuor del comune dobbiamo rimanere estranei l'uno all'altra e anche lui doveva essere di certo una specie di don chisotte perché non fece nulla per poterla avvicinare voleva mantenere sino alla fine l'assurda promessa fatta in treno di non rivolgerle mai la parola spesso nelle lunghe ore di malinconia la contessa si alzava dalla poltrona andava a sollevare le tende per vedere se lui era ancora lì sotto le sue finestre e quando lo aveva veduto eternamente immobile sulla panchina tornava a sdraiarsi con un sorriso sulle labbra morì una mattina verso le dieci mentre uscivo dall'albergo lui mi venne incontro col volto sconvolto era già al corrente della notizia vorrei vederla per un attimo solo davanti a voi lo presi sotto braccio e tornamo indietro quando si trovò davanti al letto della morta prese una mano di lei e vi posò un bacio che sembrava non avesse fine poi scappò via come un pazzo il dottore fece un'altra pausa e poi concluse questa è certamente la storia più strana sui viaggi che sia a mia conoscenza bisogna dire che gli uomini sono proprio pazzi una donna mormorò sotto voce quei due erano meno pazzi di quanto crediate erano erano ma piangeva tanto da non riuscire a parlare cambiarono discorso per farla calmare ecco perché non si seppe che cosa volesse intendere